ciao a tutti oggi prepareremo la crema di caffè il tempo di preparazione della ricetta è di due minuti circa gli ingredienti sono zucchero latte intero congelato a cubetti caffè solubile diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e il caffè solubile e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il latte chiudere con il coperchio senza il misurino posizionare la spatola ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 6 spatolando la crema di caffè è pronta serviamola crema di caffè grazie e alla prossima ricetta ciao a tutti 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 ciao a tutti